Buonasera, chi era qui l'anno scorso ricorderà che si è parlato di una stampante 3D che fa delle cose meravigliose. Io voglio presentarvi una stampante 1D questa sera, una stampante 0.0 e neanche mi va di chiamarla stampante perché stampante dà l'idea di qualcosa di istantaneo, infatti un sostantivo, un participio presente o un gerundio, io ricordo qualcuno a proposito di migrante disse è un gerundio, no è un participio presente. E allora avete buona memoria di quell'episodio, no? No. E voglio chiamarla stampatrice perché dà l'idea di qualcosa che produce roba nel tempo e ve la presento. Eccola. Lina la pedalina, ormai la chiamo così. Io ho perso la testa per questa macchina, per questi due quintali e mezzo di ghisa che si trovano oggi a Conselice, in provincia di Ravenna e che ho incontrato il primo ottobre durante una manifestazione sulla libertà di stampa. Questa pedalina ha dato il meglio di sé dopo l'8 settembre 1943, quando il fascismo cadde, inizia la Repubblica di Salò, arrivarono i nazisti e il suo compito era fondamentale, era quello di informare, di stampare comunicazioni, volantini che poi sarebbero stati fatti circolare. E i protagonisti di questa incredibile, meravigliosa avventura della pedalina furono i partigiani e le partigiane, gli antifascisti e le antifasciste del distaccamento Umberto Ricci della 28esima Brigata Garibaldi. E la maggior parte di quelle persone non ci sono più, vennero trucidate tra luglio e settembre del 1944. Questa è la casa della famiglia a San Giorgi, sull'argine del fiume Sillero ed è stato il primo nascondiglio della pedalina. Era stata presa a Imola da una tipografia, in disuso venne rimessa a posto, sistemata, fatta funzionare e venne portata nello scantinato di questa casa della famiglia a San Giorgi. Vedete ci sono gli argini sullo sfondo del fiume Sillero, il che voleva dire che questa pedalina veniva utilizzata spesso da persone che avevano i piedi nell'acqua. Così la ricorda Bernardo. Bernardo è uno dei sopravvissuti e quella era una stanza di due metri per due. Ci si lavorano in tanti perché c'erano i tipografi, c'erano gli stampatori, c'erano le persone che venivano a portare la carta ed inchiostro e poi c'erano le persone che da lì dovevano portare via i volantini, i materiali, gli organi di informazione, li chiameremmo così. E questo è il ricordo che ha fatto Bernardo e me lo ha raccontato il primo ottobre di quest'anno a Consedice. E Guido Buscaroli è la persona che portò la pedalina da Imola fino a Consedice, era un pescivendolo e lui aveva un ruolo importantissimo, era un militante dei GAP, un ruolo importantissimo perché non solo la portò sul suo furgone, ripeto, due quintali e mezzo di ghisa, ma poi era quello che in bicicletta faceva la spola in continuazione per portare la carta ed inchiostro senza le quali la pedalina non avrebbe funzionato. e si racconta che poi veniva a prendere i materiali stampati, li portava sempre in bicicletta, nascosti davanti sulla cassetta dove c'erano le anguille. Il problema è che ogni tanto le anguille si muovevano e allora rischiava di essere scoperto. E questi sono quattro tipografi. I tipografi dell'epoca cosa facevano? Componevano i materiali da stampare con i caratteri di piombo. Voi immaginate la fatica solo di fare un volantino lettera per lettera, carattere per carattere. Eravamo nel 1943-44 e per produrre un semplice volantino ci volevano le ore per crearlo con i caratteri di piombo. E poi ci voleva la forza spaventosa dei pedalatori, degli stampatori. Questi quattro sono stati trucidati dai nazisti. Immaginate che cosa voleva dire? Per far passare un foglio, farlo inchiostrare, prendere i caratteri, bisognava dare sei colpi di pedale per un foglio solo. Voi immaginate che vennero stampate in un solo giorno ad esempio 25.000 copie del quotidiano l'unità e che nel periodo in cui funzionò questa pedalina vennero stampate centinaia di migliaia di volantini, di quotidiani, di altro materiale, di informazioni, tutto fatto con i pedali, pedalando. Grazie alla fatica di queste persone. Questi sono alcuni esempi dei materiali che venivano stampati. Sono tutti raccolti a Conselice e vi suggerisco di andare a visitarla, questa pedalina, con tutti i materiali dell'epoca. Questa è un'edizione dell'unità dell'epoca. Questo è un volantino di gruppi di difesa delle donne. Le donne partigiane ebbero un ruolo straordinariamente importante perché erano le staffette, erano coloro che correvano rischi enormi nel portare i volantini, materiali, di villaggio in villaggio, di città in città, di casa in casa per far conoscere cosa accadeva durante la guerra, per mobilitare l'azione, per dare istruzioni, per dare direttive, per dare coraggio soprattutto. E loro rischiavano di più, erano la maggior parte delle persone che portavano, che diffondevano, che facevano informazione. Poi c'erano tanti stratagemmi, appunto c'era il pesciarolo che sotto la cassa dei pesci portava i volantini, c'era il farmacista che con la scusa di dover visitare delle persone in casa portava i volantini, c'era il fruttivendolo che li nascondeva sotto le cassette di frutta, c'erano persone che si dipingevano, si coprivano di iodio per far vedere che erano malate. Tutto questo poi dovendo passare ai posti di blocco dei nazisti. E nonostante questo ci si riusciva, ma ci si riusciva con un coraggio, con una forza, con una volontà che vanno ricordate. Che se ci dimentichiamo queste persone, se ci dimentichiamo la pedalina, ci comporteremo male. Ci comportiamo male nel presente, ci comporteremo male nel futuro. E alle donne staffette, io voglio dare un omaggio particolare, ricordando Ines Bedeschi. Ines ebbe un ruolo importantissimo in questa storia della pedalina, perché era non soltanto una staffetta, ma era anche una formatrice. Cioè girava per tutta l'Emilia per cercare di spiegare alle altre donne partigiane come poter fare quel lavoro, come moltiplicare i canali di informazione, come comunicare di villaggio in villaggio, attraverso la bicicletta, superando i posti di blocco, superando la violenza che incontravano, gratuita, feroce, brutale, dei nazisti. Ines venne torturata in maniera terribile e morì il 28 marzo del 45. Io voglio chiudere questo racconto di Lina, la pedalina, con i versi di Renata Viganò dedicati a Ines. Ines era nel fiore della vita e tutta intera voleva viverla. Invece l'ha detta la partigiana, ad ogni cosa più cara rinunciò che non fosse la lotta. Dalle sue valli e moti di Rovagna andò dove era maggiore il bisogno. La presero i nazisti feroci e spaventati. La tortura non strappò dalla sua bocca rotta neppure un nome di un compagno. Infuriati, i tedeschi la portarono sulla riva del Po, ma anche in un giorno di primavera che era fatica a morire, Ines tedeschi non sentì la voglia di salvarsi col tradimento. Grazie.